Andiamo proprio con Guidi perché sei stato protagonista di quello che è stato un po' il cambio tattico, primo tempo a centrocampo, secondo tempo 3-3 della difesa, secondo tempo siete stati attratti inarrestabili, vi brucia questo pareggio? Sì è un pareggio che vale come una sconfitta perché usciamo praticamente dai playoff a testa alta in quanto abbiamo fatto vedere a tutti che siamo un gruppo forte e coeso nonostante siamo quasi tutti giovani e sì sono stato adattato sia a metà campo che in difesa però questo non ha mancato nulla per far vedere un contributo alla squadra.